ciao a tutti gli utubiani sono di nuovo qui per vedere la build del rubico prime ne abbiamo appena parlottato un po su twitch dopo averla già vista anche la volta scorsa esserci fatti un'idea vi faccio subito vedere il discorso forma diamo un attimo cosa ho messo ho messo ben quattro forma e ci troviamo oltre alle due v iniziali altre 3 v e un tratto orizzontale c'è chi sicuramente andando a cercare altre build avrà messo magari un altro tratto ne abbiamo parlato un po così in live io non ero molto convinto del secondo tratto perché secondo me avere due tratti ti incasina un po un po come quando hai due o tre v su un warframe che magari in una build non usa potenza potere su una v metti prime and continuity sulle altre non sai cosa mettere qui un discorso simile ti ingarbugliava secondo me avere un altro tratto quindi ho preferito abbondare a dv un po nomenata ma in un slot elite comunque si expa abbastanza rapidamente due ceni sull'arma i miglioramenti rispetto al rubico a livello statistiche sono un po strani perché per alcune cose effettivamente meglio però alla fine non lo so è come se non avessero un enorme divario in termini dps nel senso che andiamo a vedere questa cosa cambia soprattutto un discorso di livelli di zoom nel senso che su zoom qua non si vede mi pare fa più male a un moltiplicatore di critico maggiore il rubico base rispetto al rubico prime e rubico prime zoom anche un pochino meno quindi è più un discorso magari a seconda dei gusti un fucile a cecchino in cui uno ha uno zoom che zoom un pochino o meno magari ci si trova meglio in missioni che non siano open map quindi in spazi più ristretti devo dire zoomando anche in corridoi in cui ho un nemico a 10 metri da me anche con il full zoom rubico prime non mi ha dato fastidio il vantaggio grosso rispetto al rubico base è l'otto per cento in più di critical chance che ci porta con solamente point strike ad avere già 95 per cento mi pare di probabilità di critico questo è un grosso vantaggio l'altro grosso vantaggio è un quasi mezzo seconda in meno di ricarica in quanto a status sono simili ma è un'arma è un ufficio a cecchino status è un po' difficile giocarci insomma attorno attorno a questa a questa cosa perché comunque non spara troppo rapidamente va bene magari per applicare determinati stati alterati una volta ogni tanto come può essere radiazione per confondere un nemico ma si deve applicare tante stack di corrosione non è l'arma più indicata quindi si tende secondo me è meglio tendere sul full critico e basta a livello di danni base come potete vedere non cambia moltissimo e hanno poi un moltiplicatore di critico di base senza mettere in considerazione lo zoom che è praticamente identico dunque vediamo quindi la build lasciate perdere per un attimo queste due mod le vediamo poi per ultime perché si possono variare un pochino ovviamente abbiamo se riesce nel split chamber poi sarei che vai tal senso quindi robe base da che cosa da primaria critica quindi abbiamo i danni percentuali generici abbiamo molti shot abbiamo probabilità e danno critico per forza chiudiamo con una coppia di mod elementali un tratto ragazzi se vi ho detto l'arma non è secondo me indicata per applicare stati alterati non tanto per i valori base ma proprio per la cadenza di fuoco usiamo quindi le mod elementali classiche che ci forniscono un danno base insomma più più sostanzioso che poi una volta moltiplicato con tutti i vari moltiplicatori di critico zoom non zoom questo quello quell'altro fa molto male è un fucile a cecchino ci interessa fare un colpo che secca la maggior parte dei nemici al limite magari bisciottare quelli un po più grossi talvolta magari deve sparare anche 3 4 colpi magari un intero caricatore che sono cinque però bisogna aumentare tanti danni base perché così anche i bersagli più coriacei riusciamo a tirarli giù relativamente rapidamente presto insomma gli ultimi due slot ci sono tante varianti alla fine della fiera sotto anche consiglio di cimbre dopo aver valutato un po di mod come build di default ho deciso di mettere questa argonscope ci sta perché è un fucile da cecchino perché non usare una mod che scatta su headshot su un fucile da cecchino se parto dal presupposto che se uno decide di usare uno sniper rifle ha intenzione di divertirsi a mirare come si deve quindi a ricercare l'headshot quindi se già uno tende a fare l'headshot tanto vale ottenerne un beneficio tangibile ulteriore oltre al classico moltiplicatore di danno su colpo alla testa così ci becchiamo anche un'ulteriore probabilità di critico che penso ci faccia arrivare così a naso direi attorno al 140 per cento di probabilità di critico il che significa critici gialli garantiti e arancioni con il 40 per cento di probabilità no ora il contrario gialli non ci sono più ora sono arancioni più rossi vabbè non mi ricordo comunque di base abbiamo i critici normali sempre garantiti per carità di dio anche senza argonscope nel caso in cui non lo vogliate usare avete comunque un 95 per cento di probabilità come vi dicevo prima con la sola point strike quindi comunque non è indispensabile ma secondo me consigliabile vigilante armaments cosa fa ci dà un 60 per cento di multishot che aumenta in sostanza due cose molto importanti tralasciando lo status che ripeto non ci interessa aumenta ovviamente i nostri danni ci consente di sparare un colpo aggiuntivo abbiamo 90 per cento di multishot su split chamber 60 per cento su vigilante armaments per un totale di 150 per cento di multishot cioè la garanzia di sparare un secondo colpo e una probabilità di uno su due di spararne un terzo non so se lo sapete non tutti lo sanno i fucile a cecchino hanno una cosa in comune con le armi corpo a corpo una sorta di combo counter che varia molto da fucile a cecchino a fucile da cecchino e che ogni tot colpi incrementa i nostri danni nel caso del rubico mi pare che ogni colpo già vada a contribuire all'innanzamento di questo bonus e ovviamente sparare con multishot spero non dire cazzate me lo confermeranno in chat ma con multishot in questo modo dovremmo riuscire a innalzare più rapidamente questo questa sorta di combo counter non mi ricordo se è un nome specifico per i fucile a cecchino ma il concetto è quello mandando a segno colpi in sequenza in 38 secondi otteniamo dei benefici ulteriori quindi ci sta per carità ci sono però tantissime altre varianti per poter chiudere questi ultimi due slot e mi sono messo questo non è un questa non è una build precisiamolo ogni tanto faccio questa cosa è un elenco di mod perché se no me le dimenticavo per strada argonscope l'abbiamo visto abbiamo visto vigilante armament cosa si può fare si può fare argonscope più hunter munition perché è vero che non possiamo giocare status è sconsigliato su quest'arma ma con hunter munition è un discorso a parte abbiamo visto che con o senza argonscope più o meno abbiamo i critici garantiti grazie a hunter munition su colpo critico abbiamo il 30 per cento di probabilità di infliggere slash è lo stato del taglio quindi il sanguinamento che il cui danno scala nel caso in cui è applicato su un colpo critico in questo caso è proprio applicato per forza su un colpo critico viene moltiplicato per il moltiplicatore di danno critico che su quest'arma diventa una bomba su full zoom o nel caso ad esempio in cui decidiamo di utilizzare blade drowns una cosa che si può fare mettere in combo sugli ultimi due slot volendo blade drowns e hunter munition però ci perdiamo la probabilità di critico di argonscope e quindi non abbiamo più la garanzia 95 per cento è quasi una garanzia in realtà abbiamo arconarscope che ci entra con quel discorso di shot combo duration che vi dicevo prima è esattamente come drifting contact per le armi corpo a corpo aumenta la durata della combo molto utile su certi fucile a cecchino se non sbaglio proprio come il rubico perché mi pare che abbia un contatore molto basso che rischia di resettarsi proprio durante il caricamento dell'arma questo è un ricordo che ho in realtà dal vecchio rubico che andrebbe confermato comunque in generale ci sta se vogliamo decidere di giocare accumulando questo bonus è una mod comunque molto particolare di nicchia perché non la vedo spesso utilizzare però è molto carina io ci butterei un occhio su e farei qualche test se siete amanti dei fucile a cecchino questa mod è un must have secondo me per smanettare un po' ah ecco cimbro mi conferma in chat che ah non si resetta ma il combo counter decrementa mi dice ogni due secondi abbiamo due secondi di tempo di ricarica quindi inevitabilmente qualcosa perdiamo e arconarscope aiuta non riesco a leggere tutto ci sono un botto di cose l'ultima mod con cui si potrebbe chiudere è primed fast end nel mio caso non è maxata perché lo sapete io di solito non maxo tutto a prescindere perché gli ultimi punti l'ultimo in particolare costano un sacco non ho voglia di farmare sempre l'ira di dio però è una buona mod perché come è venuto fuori durante la live per quanto sia più veloce quest'arma a ricaricare rispetto al rubico base che ha 2.4 secondi questo 2.0 comunque ciao lotus era un po' che non mi interrompevi nella registrazione dei video 2 secondi in combattimento 2 secondi in cui non possiamo fare niente sono tanti e siccome ogni 5 colpi sparati ci ritroviamo in questa situazione potrebbe starci effettivamente l'inserimento di primed fast end tenete conto che 5 colpi con un ratto di fuoco di 3.67 li spariamo in un attimo in un paio di secondi in genere li abbiamo fatti fuori tutti li abbiamo esaurito il caricatore significa che se in 2 secondi esauriamo il caricatore ogni 2 secondi abbiamo 2 secondi di tempo di carica 2 secondi spariamo 2 secondi dobbiamo ricaricare sempre così può essere un po' frustrante può essere un po' frustrante e può rompere un po' le palle perché spezza molto il ritmo spezzando addirittura di più di un fucile come il Vectis Base che invece spara e ricarica ogni colpo perché magari è un tempo un po' più corto e ci troviamo meglio a me personalmente questi 2 secondi un po' fanno storcere il naso dove si può usare primed fast end? un po' ovunque perché l'arma fa molto male però in particolar modo se siamo in un contenuto di gioco in cui sappiamo che i nemici muoiono anche con una modda danno in meno che ce frega di overkillare non ce ne frega niente possiamo fare 10.000 danni in più 15.000 danni in più 20.000 danni in più ci servono quei danni in più perché se non ci servono tanto vale puntare su una modda utility nel mio caso non ancora maxate abbiamo uno 0,6 secondi in meno quindi ricarichiamo in meno di un secondo e mezzo è già un buon guadagno che si può ulteriormente migliorare maxando questa mod io personalmente per come gioco io per il tipo di missioni che faccio solitamente non sento la necessità di mettere danni in più e probabilmente giocherò in questo modo perché è più fluido perché ci divertiamo di più meno tempo possiamo ricaricare più tempo passiamo a sparare più danni riusciamo quindi a fare sui nemici anche questo è da considerare i danni complessivi a partita risparmiare di volta in volta del tempo sulla ricarica significa appunto poter sparare di più e a conti fatti aumentare i nostri danni complessivi si tratta comunque di una manciata di centesimi di decimi di secondo non è una roba stravolgente ma secondo me potrebbe fare la differenza per i più smanettoni in generale devo dire le più interessanti argonscope quasi quasi per me è un must have molti si divertiranno con hunter munition sicuramente queste due mod però magari non lo so giocateci un po' e valutatele bladed rounds chi mi segue da tanto si ricorderà che la sconsiglio rispetto a argonscope perché argonscope può scattare sullo stesso bersaglio che stiamo colpendo basta colpirlo alla testa non ucciderlo basta colpirlo in testa bladed rounds scatta quando uccidiamo un nemico il ragionamento che io ho già fatto in passato è che il bonus di danno aggiuntivo di bladed rounds ci serve di più quando il livello della missione diventa più alto ma proprio quando il livello della missione diventa più alto facciamo più fatica a uccidere un nemico per far scattare questo bonus se siamo con dei nemici di livello 100 e abbiamo davanti tre bombard e abbiamo bisogno di questi danni aggiuntivi di bladed rounds per farlo scattare dobbiamo cercare un butcher ci serve un'unità squishy da poter tirare giù altrimenti questo bonus non ce l'abbiamo quindi paradossalmente questa mod quando ne abbiamo più bisogno secondo me è più difficile da far scattare motivo per cui io comunque do la precedenza ad argonscope su bladed rounds nonostante sulla carta i valori di bladed rounds siano ottimi e giocano bene in particolar modo se si vuole applicare bleeding perché bleeding vi ripeto su critico viene moltiplicato per il moltiplicatore di critico che viene incrementato a bladed rounds mi sto ingarbugliando perché veramente sto dicendo un sacco di cose la mia opinione generale per chiudere su quest'arma è che sia un'arma ottima fa dei bei danni è divertente da utilizzare ha un'estetica carina è una più che un potenziamento sembra quasi un'alternativa un pochino più valida rispetto al rubico base senza sfociare su una roba diecimila volte più forte però comunque interessante merita merita tutto questo per i maxes finora mi sembra effettivamente meritevole detto questo ragazzi vi saluto e vi aspetto al prossimo video ho appena fatto un cerchio attorno al pacco di rino con il mouse senza rendermene conto vabbè ragazzi scappo ciao a tutti grazie a tutti